no scusate scusate no scusate io vorrei fare un vorrei vorrei dire una cosa non so se vi siete accorti che abbiamo qua davanti facciamo un cambio di programma facciamo un cambio di scaletta di programma assolutamente anzi aggiungiamo aggiungiamo la scaletta vai pure direi che si potrebbe fare l'altra tetris va bene va bene vai tetris ragazzi Luca grazie 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 a tutti.